C'è venuto a fare qua questa notte, che è una notte magica, no? Sono venuto a degustare queste splendide pettole del borgo antico di Tarantovecchio. Ma come parli bene, ma se ti pensi che a questo marraio uno, che a qua ho deciso di essere, sta... Da quant'anni che ha fatto la pettole qua? Sei anni. Quante pettole ti ha mangiato da sei anni? Dai, ma tu lo dica! Bella mia! Grazie a tutti!